E tu sei nato proprio così o hai avuto la meningite da bambino? Mamma che meraviglioso file che mi hai sbloccato, che bei tempi. La festa di Montevergine o anche l'Isistrata, abbiamo fatto le terme di Agnano con Luisa Conte ed Enzo Cannavale e venivamo in salumeria da te con il maestro Cannavale, me lo ricordo bene. Ma non si può essere moderni se si perde il senso della tradizione, se si perde il senso delle proprie radici. Ti ringrazio molto, io sono molto attaccato alle mie radici e alla mia famiglia, ovviamente. Se un teatro di Modena o di Reggio Emilia di Bologna mi dovesse chiamare, correrei come un pazzo, mi farebbe tanto piacere. Purtroppo non lo decido io, mi dispiace. Amica mia, sai che cos'è? Non è nemmeno idiozia, perché molte di queste persone che tu vedi in mascherina da sola in macchina sono anche persone intelligenti che avrebbero gli strumenti per ragionare. Il punto è che purtroppo è paura e la paura non ha senso, la paura non la riesci a controllare, perché non ci puoi ragionare sulla paura, perché è un sentimento talmente istintivo che è stato in qualche modo iniettato in dovena con mesi, mesi e mesi di martellamento psicologico, quotidiano, giornali, televisioni, cosa che non è successa negli altri paesi, per cui la gente vive libera. Sì, anch'io sono stato a Parigi, la mascherina non la portava nessuno più e non scavalcavano i morti, tra l'altro. Ma guarda, effervescente non lo so, nel senso. Sicuramente rispetto al resto d'Italia è una città con, come dire, intanto tantissime strutture teatrali, tantissimi teatri, tante compagnie, tante possibilità anche di vedere teatri diversi tra di loro, spettacoli diversi tra di loro. Però credo che, come moltissimi teatri italiani, Napoli soffra di questo grandissimo problema che è il fiume di Danaro che arriva dallo Stato ai teatri. Fiume di Danaro che, in qualche modo, fa sedere, tra virgolette, gli imprenditori teatrali e non gli fa cercare le cose che possono veramente portare tanta gente a teatro, tanto poi arrivano i finanziamenti. Questo, grazie a Dio, non succede nel teatro dove io sono direttore, perché Pino, il gestore, il proprietario del teatro, ha un'altra mezza. Lui soffre proprio fisicamente se non vede il teatro pieno. Per cui fa sempre di tutto per fare spettacoli che possano riempire il teatro. Il teatro è bello quando è pieno, l'attore è felice quando sta parlando a tante persone. Napoli è sicuramente una città con un potenziale altissimo da questo punto di vista. Se poi la domanda è questo potenziale completamente sfruttato, la risposta è no. Faccio quattro allenamenti a settimana. Esattamente quello che probabilmente è successo. L'Italia è stata amministrata molto male ed è stata lasciata a Draghi perché è il liquidatore. Ci sta svendendo al miglior offerente. Il punto è anche che noi non abbiamo un Presidente del Consiglio eletto dal popolo. Chiaramente la nostra è una Repubblica parlamentare e in Italia il Presidente del Consiglio non lo elegge il popolo. Ma comunque non abbiamo un Presidente del Consiglio che non sia espressione del voto popolare da... Io manco me lo ricordo più l'ultimo Presidente del Consiglio che era espressione del voto. Quindi purtroppo il problema grosso è che ci sono interessi europei e non italiani che non fanno il bene dell'Italia. Questo è il mio parere. No no ma figurati continuano a sparare numeri a cavolo quotidianamente 150 morti, 200 morti, 120 morti, 300 morti che poi moltissimi medici sono d'accordo con l'aver dichiarato che bisognerebbe rifare la conta. Bassetti in testa è il primo che dice che i morti di Covid, cioè gente che, poverini e pace all'anima loro, sono morti a causa del Covid, ma neanche il 10% di quelli che ci dicono. Sono tutti morti con il Covid, cioè persone morte di cancro, di ictus, di incidente, di infarto positivi al Covid nel momento della morte. E a voglia di sta cosa, però chiaramente quei numeri spaventano, quello spavento crea la paura, la paura crea gli psicopatici.